Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. e poi gli ho detto che dobbiamo fare questa foto storica, che ha messo un po' da con me, che ha messo un po' da con me. Bellissimo, bellissimo. Ma siccome ha detto a Perlusconi che sta a fare, faceva una foto con questo sconosciuto, non siamo aziende, a centinaia hanno fatto una foto. Bellissimo, bellissimo. Ma di culo, eh. Ma Silvio poi, a un certo punto, a un certo punto, a un certo punto mi dice, se stava andando, dice il Presidente, se chiesti la canzone, se mi fate un'offerta, siamo in campagna. Che merda, che merda. Che sbagli che fa? Ciao Presidente, 5 mila euro, per 5 mila euro canto. Poi gli hanno voluto dare 5 mila euro per farlo smettano. Ecco, la sigla oggi ce la fa direttamente Berlusconi, non la facciamo partire, va bene così. Ma facciamo un passo indietro. La giunta alemanno è abbastanza al capolinea, però, quando si parla del sindaco uscente, in carica comunque, c'è sempre quel qualcosa che ti fa pensare, ma magari lo rivotano, anche se effettivamente c'era poco da essere fiduciosi in quel clima di elezioni. È importante, diciamo, ricordarlo però, perché di mazzette a quell'organizzazione politica ne passano. E quindi uno ci prova fino all'ultimo. E la monnezza è uno degli aspetti più importanti della campagna elettorale. E per i cittadini romani è fondamentale, perché la città soffre il problema. Lo sente. È così triste vedere il centro del mondo ricoperto di merda. E grazie al cazzo, con tutte le trafile che devono fare i soldi, prima di essere investiti in mano d'opera e via dicendo, ne restano davvero pochi. L'avversario politico è Marino, un chirurgo, un bravo uomo, che su questo argomento dice liberiamo Roma. Su questa roba ci mangia chiunque. Soprattutto Buzzi e Carminati. Che non gliene può fregare di meno di Alemanno. Se non fosse che una rielezione vuol dire siamo tranquilli e parati per i prossimi cinque anni. Perché comunque Marino è un outsider della politica. Sempre che si corrompono le persone attorno a lui, questa è l'unica certezza che abbiamo. però si fa più fatica. Se c'è la tavola apparecchiata perché devi cambiare? Questo è il discorso. Insomma, un lavoraccio, però meglio tenere le cose come stanno per adesso. Ovviamente Buzzi, come dice Carminati, è uno che c'è il piano A, piano B, piano C, piano D. Quindi figuriamoci se a fatti concreti cambia. Semplicemente è più lavoro se cambia la giunta. E Buzzi infatti con le sue cooperative vota al comune diciamo candidati di sinistra perché comunque è una cooperativa rossa però promette il voto disgiunto cioè che come candidato sindaco appoggerà le manno. Proprio fregagazzi degli ideali altro che comunismo e fascismo qui si va dove si conviene. Basta. Quindi Salvatore Buzzi appoggia con le sue cooperative con i suoi voti il sindaco e inoltre finanzia le cene elettorali. Beh, l'appoggio. Serve la cavalleria e scende il cavaliere. Difatti a queste cene c'è anche Berlusconi e quindi la parabola del mondo di mezzo diventa realtà perché in qualche modo anche se Carminati non è fisicamente presente alla cena cioè lui è praticamente la mano lui c'è sempre dietro lui è l'ombra tutti i presenti in quella cazzo di cena in quel tavolo volenti o nolenti sono uomini di Carminati cioè in questa puntata Carminati lo citiamo il meno possibile non farà niente però capite è lì è dietro in questa cena c'è lui che lo sappiano o che non lo sappiano che credano di tenerlo a bada o che siano consapevoli del fatto che sono solo burattini perché guardiamo in faccia la realtà gran parte dei soldi che passano al comune di Roma in è il netto viene filtrato dalla cooperativa di Buzzi è steccato con Carminati stop spunta fuori un nuovo nome della politica che viene avvicinato da Carminati ovvero quello di Giovanni Quarzo che viene fatto pompare da Mario Corsi detto Marione speaker radiofonico sportivo di punta della capitale uno che se ti spinge ti può portare fino a 17.000 voti addirittura anche lui ex narra alla fine sempre là si torna furono tra l'altro lui e Carminati indagati assolti insieme da un omicidio pensa che bella rimpatriata che bello spettacolo queste fasi quando si rincontrano sono le parti che preferisco però ragazzi è dura è dura perché scandali su scandali cioè non ci scordiamo che Mancini dietro le sbarre sta e questo è uno scandalo pesante Quarzo comunque rimane della giunta Alemanno e Buzzi stesso dice Alemanno si circonda sempre di gente che ruba perché se non era per tutte ste piccole cose che poi neanche tanto piccole ma tante restano avrebbe vinto secondo me senza problemi perché Marino rappresenta l'esatto opposto l'onestà allo sputtanamento totale di Alemanno Carminati chiama Buzzi per fargli capire che tocca sta con gli occhi aperti e la patta chiusa come direbbe il libanese alla serie che tocca mettere al sicuro i vecchi affari e iniziare a guardarsi intorno perché i nuovi mi sa che passano da un'altra fonte ed è di fatti Ignazio Marino a stravincere il ballottaggio e inizia subito a fare discorsi del tipo dobbiamo ripartire dall'onestà morale tutto bello tutto giusto magari mi sa che a Roma in quegli anni particolarmente funzionava un po' diversamente caro Ignazio e infatti buon Marino sindaco ma la giunta chi sarà Buzzi gira come un pazzo va ovunque è aperta la campagna acquisti tutti quelli che potrebbero essere parte lui li avvicina buon amico mio oh bello mio che dici beh niente stavo in giro per i dipartimenti a trovare persone beh è normale è normale bisogna bisogna vendere il prodotto amico mio bisogna vendersi come le puttane adesso adesso che io chi sai chi vende perché c'è proprio la fase dell'8 settembre anche perché vedo vedo leggende i giornali ci stanno delle ipotesi veramente fantasiose alluminate sono fantasiose in momento solo in quattro sanno quello che succede vediamo bene Marino Zingarizzi e Meta e allora vai a battere con questi amico mio i nove cavalli sono tutti dentro dice Buzzi devi metterti la minigonna e andare a battere ironizza Carminati il fare tra questi due e gli altri è ricattatorio nel senso che una volta fatta la campagna elettorale arriva la fase del io ho fatto per voi ora voi dovete fare per me allo stesso tempo se qualcun altro fa per voi poi diventa una cosa sgradevole per me questo è il discorso che fa a quarzo è una logica che non lascia scelta se vieni avvicinato da Carminati sei preda del suo volere lui si metterà al lavoro per te e tu dovrai restituire senza via di uscita alla destra la sconfitta tocca comunque ma è proprio a loro che va la presidenza della commissione trasparenza che bel nome l'organo che controlla la regolarità degli appalti che assist meraviglioso qui la nomina di quarzo viene strappoggiata la macchina parte la squadra e la squadra dicono la destra ha tre seggi su sei quindi per avere la maggioranza serve che qualcun altro passi con loro e viene preferito che in questo caso non intervenga direttamente Carminati meglio essere cauti c'è un incontro col senatore Gramazio quello che quando cadde il governo Prodi si quello sbocciò lo champagne e festeggiò vistosamente insomma fate due ricerche così che succede due senatori del PDL passano nel gruppo misto che era gestito da una sola persona maggioranza fatta so tre ne so due a posto quattro seggi su sei in mano a Carminati il 24 settembre Giovanni Quarzo è presidente della commissione trasparenza alemanno dice Carminati in qualità di sindaco doveva fare una sola cosa formare la squadra e a detta del pirata non è stato in grado per questo è crollato beh sicuramente da Carminati qualcosa possiamo imparare su questo metodologie a parte Marino invece è uomo onesto infatti poi si dimetterà proprio perché non scende a patti con il marciume della politica romana è quello che accadrà dietro le quinte lo dice lo dice Buzzi stesso alla sette tanti anni dopo recentemente proprio 2020 2021 e anche se senza immaginare Ignazio Marino che nella sua giunta che viene eletta di questi due assessori e dieci consiglieri sono già alleati con il re delle cooperative sociali Carminati dice sei tu il vero sindaco è come dargli torto si punta all'espansione un nuovo dipartimento che si occupa di pulizie su Roma giardini pubblici scuole roba di questo genere che non rientra nel quinto dipartimento ovvero quello sociale dove è già stato piazzato un uomo dalla premiata ditta con l'offerta di 2000 euro al mese più in più oltre a quello che gli dà già lo stato Carminati dice al riguardo una persona o si caccia o si compra certo se si compra è meglio così Buzzi va a parlare con questo delegato del decimo dipartimento mi pare perché posso anche sbagliare ragazzi è lo storytelling che conta sono le modalità che ci interessano e l'unica cosa ufficiale che sappiamo al riguardo è che le gemelle nipote di questo personaggio del decimo dipartimento vengono assunte qualche giorno dopo da Buzzi insomma comprato anche lui Mirko Coratti chi è costui? un altro che ha a che fare con appalti pubblici un pezzo abbastanza grosso avverte lui direttamente Buzzi di un bando ama è lui che cerca il contatto un bando che parte da cifre molto più alte della media praticamente ormai la fama di Buzzi è così elevata che è la gente che va da lui se non ti ho comprato mi faccio comprare ci sono magari anche consiglieri più piccoli a cui non serve chiedere nulla però va portiamo da noi 1000 2000 al mese briciole perché no invece sulle cifre grosse ad esempio questo Mirko Coratti gli dice Buzzi che ne so fammi su un fondo di 3 milioni fammelo prendere 150.000 euro sono tuoi e tra parentesi caffè con Coratti 10.000 euro cioè neanche il tempo di sedersi e già se l'era comprato cioè consapevole del tutto sei seduto zac mazzettina 10.000 sta a posto non dobbiamo dirci niente nel frattempo Alemanno si candida all'europea e Buzzi inizia a chiamare amici del sud per aiutarlo con i voti un amico in Europa fa comodo no visto che non ci sta più a Roma Alemanno aiutiamolo dice anche ex detenuto si è fatto pure 6 mesi di galera ex detenuto aiutiamolo no ma che pazzesco poi succede un putiferio perché Buzzi chiede di inviare allo staff di Alemanno sette nomi di persone che potrebbero aiutarlo in campagna elettorale ma il collaboratore capisce male e praticamente dà tutta la lista dei lavoratori della cooperativa sociale quindi vengono contattate centinaia di persone con materiale propagandistico di destra tutta getta di sinistra però erroraccio ennesima stronzata che di certo non aiuta comunque Alemanno non viene eletto neanche stavolta e vabbè fuori dai coglioni sta botta se non porti voti se non c'è più potere chi se ne frega di te Buzzi comunque su questo errore ha un macello un fiume in piena di rabbia e di insulti ai suoi collaboratori giustamente direi un disastro ma si calma con poco chi se ne frega alla fine l'anno l'ha chiuso con 40 milioni di fatturato solo che la maggior parte di questi soldi che entrano sono investiti concretamente per quello che devi fare quindi c'è l'utile è zero nella maggior parte di questi soldi che entrano per motivi sociali i veri utili si calcolano sugli zingari sugli immigrati le emergenze alloggiative ed è lì che bisogna iniziare un attimo a forzare la mano l'eleganza incontra la tecnologia Lancia Y da oggi nei nuovi allestimenti oro platino ed eco chic GPL partono gli incentivi Lancia gamma Y hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro Tanzero TAIG 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre Grazie a tutti